Over 65 ha sorpresa a 90.000 vaccini in più, la regione li ha dirottati dagli ultra settantenni dopo che nel click day le 10.000 dosi iniziali erano andate esaurite in 20 minuti. Neonato morto, assolta, la ginecologa, la tragedia avvenne nel 2013 all'ospedale San Luca, otto anni dopo è arrivata la sentenza della Cassazione. Torna alla luce l'antico Camposanto, grazie al lavoro di due volontari è stato liberato dalla vegetazione il cimitero creato in epoca napoleonica a due passi dal Duomo di Gallicano. Camaiore sconfitto, Tau, Corsaro, il doppio volto della terza giornata in eccellenza. Blu Amaranto battuti 2 a 1 a massa mentre la formazione altopascese passa di misura sul campo del Ponsacco. Ben trovati a questa edizione del TG Noi, l'avete sentito anche dai nostri titoli di apertura in primo piano, la campagna vaccinale in regione, 90.000 dosi in più a sorpresa, messe a disposizione per le persone con più di 65 anni di età. Facciamo il punto nel servizio di Egidio Conca. Nuovo scatto in avanti, anche se tra mille difficoltà, nella campagna vaccinale in Toscana. Nel corso del Click Day riservato agli over 65, partito inizialmente con una dotazione di poco meno di 10.000 vaccini Johnson & Johnson, sono state messe a disposizione altre 90.000 dosi, stavolta principalmente con Pfizer, con agende fino al 7 giugno. Le prenotazioni sul portale regionale delle 10.000 dosi iniziali erano partite fortissimo, tanto da esaurire i posti nel giro di 20 minuti. Inevitabilmente, a causa dell'intasamento, si sono verificati anche problemi tecnici ed erano partite le proteste nei confronti della regione. Mezz'ora dopo il tutto esaurito, la regione ha quindi deciso di aprire anche agli over 65 le prenotazioni dei 90.000 vaccini Pfizer riservati inizialmente solo agli ultra settantenni, visto che gli ultimi over 70 stavano tardando a prenotare. E la settimana prossima, con ogni probabilità già da lunedì, si riparte con le prenotazioni, stavolta aperte non solo agli ultra 65 anni, ma anche agli over 60, ovvero i nati dal 1952 al 1961. Dovrebbero essere messe a disposizione 45.000 dosi di AstraZeneca. Adesso andiamo a fare assieme il punto, aiutandoci con la nostra grafica, riguardo ai nuovi casi di positività al Covid registrati nelle ultime 24 ore. Sono 744 nuovi positivi a livello regionale, il tasso di positività è al 2,8%. I pazienti ricoverati nei posti letto Covid sono 1.447, 229 quelli in terapia intensiva. Nelle ultime 24 ore si registrano anche 35 decessi, con un'età media di 80,8 anni, quattro dei quali nella nostra provincia di Lucca. Si tratta di tre donne di 69, 85 e 91 anni nell'ambito di Lucca e di una donna di 73 anni nell'ambito della Versilia. Andiamo adesso a vedere anche i dati provinciali. 72 i nuovi contagiati, 42 nell'area della Piana di Lucca, nel dettaglio 7 casi ad Alto Pascio, 9 a Capannori, 22 a Lucca, 2 a Monte Carlo, 1 a Porcari ed 1 a Villa Basilica, 2 casi in Valle del Serchio, entrambi a Villa Colle Mandina, 28 casi in Versilia, 11 a Camaiore, 4 a Forte dei Marmi, 8 a Massarosa, 1 a Stazzema e 4 a Viareggio. Ci spostiamo adesso a Torre del Lago. È durata soltanto poche ore la fuga del rapinatore a Torre del Lago. Si è infatti costituito. È durata poche ore la fuga del rapinatore che nella mattinata di martedì aveva compiuto due tentate rapine e una rapina a Torre del Lago. Sentendosi forse con il fiato sul collo da parte delle forze dell'ordine, nel pomeriggio si è presentato negli uffici del commissariato di Viareggio per costituirsi. Si tratta di BM, 23enne residente proprio nella frazione di Torre del Lago. La mattinata del giovane era iniziata intorno alle 5.30, quando aveva tentato di entrare nel bar Nessun Dorma di Viale Marconi, mentre i dipendenti stavano preparando le colazioni, ma il colpo era fallito. Il giovane si era dunque recato al distributore Enni di Via Vittime del 29 giugno, dove è stato portato con un SUV scuro, come si vede dalle telecamere di videosorveglianza. Qua aveva afferrato la cassa del bar, ma nella fuga era stato bloccato da un dipendente che era riuscito a fargli perdere la rifurtiva e a farlo fuggire. Dopo meno di un'ora, erano circa le 7.30, si era recato all'Emporio Tabacchi sulla Via Aurelia e con lo stesso modus operandi aveva raffato il cassetto dei contanti e si era dato alla fuga scomparendo nella pineta al di là della ferrovia. Ma erano troppe le testimonianze e le tracce che aveva lasciato durante le tre ore, tanto da indurlo nel pomeriggio, a costituirsi accompagnato dal proprio avvocato. Un episodio isolato, ma che sommato a quelli degli scorsi giorni, con diversi furti avvenuti proprio a Torre del Lago, ha fatto riemergere la questione della sicurezza della frazione. Secondo me sarebbe opportuno che comunque la frazione venisse controllata maggiormente, soprattutto in questi orari qua. Ci sono sempre movimenti particolari, quindi un appello nel controllo della frazione. Il fatto che non si riesce a monitorare la situazione, che non si riesce a gestire queste... Più c'è crisi, più aumentano i delinquenti, più abbassano i controlli, va tutto alla rovescia e quindi è un casino. È stata assolta in via definitiva la ginecologa coinvolta nel caso del bimbo morto al Campo di Marte nel 2013. Otto anni fa l'esposto denuncia di una donna contro l'ASL dopo che il suo bambino era nato morto a seguito di sette ore di travaglio. Oggi è arrivata la sentenza definitiva della Cassazione. La ginecologa dell'ospedale è stata assolta dall'accusa di omicidio colposo aggravato per colpa medica. Sentenza che ha ribaltato la decisione del GUP del Tribunale di Lucca che aveva condannato la dottoressa in primo grado con rito abbreviato ad un anno di reclusione 25.000 euro di provvisionale per ciascun genitore del bambino nato senza vita all'ospedale Campo di Marte. I fatti risalgono al 3 maggio 2013. La Corte d'Appello di Firenze aveva successivamente assolto la donna perché il fatto non sussiste, ma i coniugi avevano proposto il ricorso per Cassazione. Oggi la sentenza dei giudici Ermellini si basa sulla motivazione che non vi siano stati segnali di allarme e che la lettura del monitoraggio cardiotocografico, esame che valuta il benessere del feto in ambito prenatale, effettuata dall'imputata, risulta conforme alle linee guida vigenti all'epoca, motivazione che esclude ogni colpa anche lieve nella sua condotta. Cambiamo pagina. Lucca Crea, la società partecipata dal Comune che organizza tra l'altro anche la manifestazione Lucca Comics, ha raccontato alla città presentando il proprio bilancio l'anno 2020, segnato ovviamente dalla pandemia. Il 2020 per Lucca Crea è stato un anno di difficoltà, eventi mancati e perdite, ma anche un anno di grandi sfide a cui la società ha cercato di rispondere con creatività, mettendo a frutto la propria esperienza e creando nuove opportunità. All'indomani della seduta della Commissione partecipata e richiesta dal consigliere Bindocci, Lucca Crea presenta alla città il bilancio sociale e culturale degli ultimi 12 mesi. Oltre 800 mila gli euro persi a causa dell'emergenza sanitaria, un deficit, come ha sottolineato l'assessore Giovanni Lemucchi, più basso rispetto alle previsioni grazie appunto al lavoro dello staff che nonostante la pandemia ha cercato di reinventarsi, soprattutto per quanto riguarda Lucca Comics & Games, la maggiore rassegna organizzata dalla società. L'abbiamo fatto con il Polo Fiera e i congressi, ma soprattutto abbiamo lavorato per aprire quel meraviglioso cantiere, quell'idea che si chiama Lucca Changes, che ci ha permesso nel tempo di lavorare per fare brand extension, per quello che è il marco più importante della nostra società, Lucca Comics & Games. Inevitabile guardare alla prossima edizione del Lucca Comics, su cui, anticipa Viettina, si sta già lavorando, confrontandosi con istituzioni ed espositori. I dettagli saranno resi noti più avanti, ma anche la rassegna 2021 si preannuncia un'esperienza multicanale e ibrida, che farà tesoro di quanto sperimentato già lo scorso anno, ma che certamente ancora una volta sarà diversa dal grande evento colorato cui eravamo tutti abituati. Questo è il momento per lavorare duramente con la città, per capirne le necessità, ma soprattutto con il comparto imprenditoriale. Quindi abbiamo davanti due mesi di solida progettazione per trovare ancora una formula, ripartendo proprio da quegli asset e quelle esperienze vincenti che sono state quelle di Lucca Cengis 2020. Ci sono giunte proteste da San Concordio per la situazione relativa allo sgambatoio per cani realizzato in via Passamonti. La questione è che la recinzione, alta non più di un metro e venti centimetri, a quanto pare è troppo bassa e a volte è stata scavalcata dai cani che vengono portati lì dai padroni, tra i quali anche Pitbull e Rottweiler. La situazione potenzialmente è pericolosa perché accanto allo sgambatoio c'è un piccolo parco giochi dove le mamme accompagnano i figli piccoli. Il comune ci ha assicurato che la recensione verrà rialzata, ci ha scritto una mamma, ma sono passati due mesi e nel frattempo lo sgambatoio è sempre accessibile e frequentato dai cani. Dopo lunghi mesi di stop tornano le visite guidate alla Chiesa di San Francesco e all'Oratorio degli Angeli. La Chiesa di San Francesco e l'Oratorio degli Angeli Custodi riaprono le porte al pubblico con visite guidate su prenotazione. Dopo lo stop di questi mesi, la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca ha infatti deciso di ripartire con un nuovo programma alla scoperta del complesso conventuale dedicato al Santo di Assisi e dell'Oratorio, anche soggetto di un importante restauro realizzato dall'ente di San Micheletto. Per adesso le visite libere sono previste nei weekend a partire da sabato 8 maggio dalle 10 alle 19. Nella Chiesa di San Francesco sarà la cooperativa Idea a curare lo svolgimento dei tour guidati a partire da domenica 16 e per tutto il mese di maggio. Ma si guarda anche al futuro. La Fondazione ha infatti stanziato 80 mila euro per realizzare nuovi lavori nell'oratorio che, una volta ultimati, consentiranno di svolgere al suo interno eventi musicali e culturali. Nello specifico, le opere riguarderanno la predisposizione di un impianto di riscaldamento e il posizionamento di sedute per il pubblico, un intervento che comunque non pregiudicherà la fruizione dell'edificio durante le aperture. Nei giorni scorsi due bracconieri sono stati individuati e denunciati dal comando guardia parco delle Alpi Appuane in quanto sorpresi con fucile in spalla e con cani a seguito all'interno del parco e quindi in zona vietata alla caccia. I due cacciatori abusivi sono stati riconosciuti grazie alle video fototrappole piazzate all'interno dell'area parco per monitorare la fauna selvatica. Le fototrappole vengono infatti periodicamente visionate durante il controllo di una di queste e in un video di circa 15 secondi i due bracconieri sono stati sorpresi alle pendici del Monte Croce. In caso di condanna i due bracconieri rischiano all'arresto fino a sei mesi o un'ammenda di oltre 12 mila euro oltre alla confisca dell'arma identificata nel video. Ci spostiamo adesso in Valle del Serchio perché grazie al lavoro di alcuni volontari è tornato alla luce l'antico cimitero di Gallicano. Sentiamo il servizio di Luca Galeotti e Abramo Rossi. Il cosiddetto editto di San Clò emanato da Napoleone il 12 giugno 1804 raccolse organicamente tutte le norme sui cimiteri e sancì a tutti gli effetti la nascita dei cimiteri moderni regolando una volta per tutte la pratica delle sepolture. Anche Gallicano si allineò a quelle disposizioni creando un camposanto ricintato e sicuro dal punto di vista igienico che fu realizzato a due passi dal Duomo e che è stato utilizzato dalla comunità fino al 1928. Poi anche a seguito della creazione del nuovo cimitero quel camposanto è stato dismesso e abbandonato e invaso via via da una fitta vegetazione che ne nascondeva completamente la presenza è stato alla fine dimenticato. Non da tutti però. Dieci anni fa due cittadini Sauro Simonini con la sua signora hanno iniziato un'impresa che all'epoca sembrava impossibile ma oggi ha dato risultati straordinari. Io e mia moglie siamo abbastanza curiosi e volevamo vedere cosa si nascondeva dentro questo bosco perché questo qui era praticamente un bosco completamente abbandonato e dimenticato soprattutto dai gallicanesi perché questo cimitero raccoglie le spoglie di oltre 5.000 persone è stato in uso per circa 120 anni per cui tutta la storia del Gallicano la storia abbastanza recente è qui e con tanta fatica con tanto impegno un impegno che dura da oltre 10 anni un impegno quasi giornaliero continuiamo e continueremo a mantenerlo perché sia utile per tutti soprattutto per le generazioni future. Oggi le vecchie tombe di questo Camposanto sono tornate ad essere visibili e così pure è stata recuperata un'antica cappellina insomma quest'area è stata davvero valorizzata e ora il vecchio cimitero arricchirà un percorso storico e naturalistico che permetterà di conoscere meglio la storia di Gallicano anche attraverso le lapide e la storia di questo Camposanto. E con questo chiudiamo la prima parte del nostro telegiornale ci fermiamo qualche istante ma torniamo tra pochissimo con la pagina sportiva a cura di Guido Casotti.